Riferimento a tutto questo, dietro la tenacia con cui Conte vuole conservare questa delega? In parte sì, nel senso che è vero quello che dice il Presidente del Consiglio che la legge assegna a lui la responsabilità della guida dei servizi, non potrebbe essere altrimenti, ma la legge stessa prevede un'autorità delegata, cioè prevede che lui assegni questa sua responsabilità a un'autorità delegata, perché questo? Perché la guida dei servizi è talmente impegnativa e talmente da un punto di vista della conoscenza obbliga tutta una serie di attività e anche da un punto di vista del tempo tali a volte da creare dei conflitti con l'agenda del Presidente del Consiglio. La legge indica nell'autorità delegata una persona di stretta fiducia del Presidente del Consiglio, sotto questo punto di vista quello che ieri scriveva Violante su Repubblica è molto interessante, cioè interpretando la legge, Violante diceva che quando la legge dice che deve essere di stretta fiducia significa che l'autorità delegata non può essere espressione di partiti diversi da quello del Presidente del Consiglio, ma deve essere espressione del Presidente del Consiglio, ovvero il Presidente del Consiglio deve avere un suo stretto collaboratore a cui delega la gestione dei servizi. Quindi ha ragione, in qualche maniera Conte a dire che la responsabilità deve restare a me, ma hanno ragione anche quei partiti della maggioranza, non solamente Italia Viva ma anche il PD, che gli dicono che va bene, ma qualcuno la deve delegare. Questo perché se ci fosse una persona vicino a lui che si occupa di questo argomento così delicato per la sicurezza nazionale, 24 ore al giorno è stato fatto riferimento a Russiagate, ma si può pensare anche degli attacchi anche contro lo Spallanzani per rubare i segreti dei vaccini italiani. Cioè sono argomenti che si ripetono poi molto spesso, le storie più roventi da un punto di vista della sicurezza non diventano neanche pubbliche. Tutto questo può essere costantemente responsabilità diretta del Presidente del Consiglio, o forse sarebbe meglio che un suo stretto collaboratore non si occupasse? Questo è un altro degli interrogativi al quale il Presidente del Consiglio deve rispondere. Non rispondere o rinviare la risposta aumenta inevitabilmente le tensioni.